Sì, certo! Non mancherò! Wow! Perfetto! Contiamo su di te! Fantastico! Ci vediamo presto! Sono sotto shock! Shiny K, la miglior cantante dell'anno, canterà il festival di B-City! Il nostro festival! Wow! Babylons, buone notizie! Una cantante molto famosa si esibirà nel nostro festival e dobbiamo allestire il miglior palcoscenico! Una cantante famosa? Chi? Chi? È una sorpresa! Lo scoprirete più tardi! Ora mettiamoci al lavoro! Contate su di noi! Avete sentito? Sta arrivando una cantante famosa! Wow! Che emozione! Ok, rilassiamoci! Come ha detto Milly, dobbiamo concentrarci sul palco! Mettiamoci all'opera! Babygirls! Babygirls! Rimarrete senza parole! Shiny K! Hai detto Shiny K! Dici tutto! Ha iniziato una sfida sul suo Babygram! Chi creerà il ballo migliore apparirà nel suo prossimo video musicale! Immaginate di partecipare e di vincere! Sarebbe fantastico! Ehi, ho un'idea! Visto che i Babylons si stanno occupando del palco, perché noi non balliamo? Ballare? Non mi piace ballare, non ci sto! Dai, Candy, sorridi! Sarà divertente! Stella, è questa la tua proposta per il palco? Guarda, è super originale! No, non credo! La mia proposta è migliore! Cos'è questo, Iris? Guarda, dobbiamo ballare sui balloncini e... Maia? Non ho nessuna idea, ma ho scoperto che ballare con i palloncini e i piedi è il massimo! Wow! Ah, mi hai appena dato un'idea per il palco! È bello, eh? Ehi! Potete aiutarmi a scendere? Che stile pazzesco, Greta! Candy, si tratta di ballare, non di cantare! Oh, ragazze, è meglio che vada al negozio a finire la decorazione! A dopo! Eh? Oh? Lo adoro! Finalmente abbiamo il palco scenico perfetto! Ti l'avevo detto! Ballare sui palloncini è proprio il massimo! Ci sono! Wow! Che carino! È fantastico! Ed ecco il ballon palco, il palcoscenico migliore per ballare al massimo! Wow! Avete fatto un lavoro pazzesco, è incredibile! Abbiamo il palco perfetto! E la grande Shiny Kay sta per arrivare! Sarà fantastico! Cosa? Shiny Kay sta arrivando? Oh! Bobby Girls! Mi ha chiamata ora Shiny Kay! Mi ha detto che non potrà cantare! È malata! Malata? No! Oh no, no! Shiny Kay non verrà! No! Oh no, il pubblico è già qui! Qualcuno deve esibirsi o il pubblico se ne andrà! Candy, non stavi ritoccando qualcosa! Sono sicura che tu abbia un piano B! Credo di avere un'idea! Balloni reali! Auguratemi buona fortuna! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! È un'idea! Alla prossima! È un'idea! Party, party! È super cool! Shout it! Shout it! Because I want to hear you singing up together! It's a-a-a-a-a-a! Please don't stop the party! Party! Che è successo, Candy? Una super canzone e una super coreografia! Inoltre, sapete chi mi ha chiamata? Shiny K! Ha visto la vostra esibizione sul suo telefono e l'è strafiaciuta! Vi vuole tutto nel suo video musicale! Davvero? Fantastico! Ehi, beh, non è andata così male! Grazie a tutti!